Falsini, Montella, la rovesciata, buono l'assist per Totti, Totti, la barata di Frey! Un'azione veramente spettacolare, bellissimo questo passaggio di Montella per Totti che è una posizione ideale per poter fare anche il pallonetto e bravo Frey comunque approfitta. Montella cerca il triangolo, rimpallo di Francesco, Totti, bravo il destro, di piede Frey! Già secondo intervento di Frey su Totti, vedete, Zago, prosegue la Roma, tocco al centro, Montella, la barata di Frey! Non è riuscito a incrociarla bene la palla, possibilità, c'erano 3 o 4 giocatori di Alloroni in avanti, tutti quelli più importanti. I timori sono quelli che continuano a vedere la fascia destra scoperta, la fascia sì, destra. Nacatà, Nacatà, il suo tiro! E la deviazione di Frey in calcio d'angolo! Bologna, e quindi magari vivi meno la re... Si vuole una gran pazienza!